Salve a tutti, grazie e benvenuti in questo nuovo video, scusate, ma è un po' raffreddato. Oggi arriviamo a fare i pronostici di UEFA Champions League, andata degli ottavi. I pronostici dei play-off di Europa League e di conferenze lente dell'andana. Quindi un po' di tutto. Degli i vostri pronostici qui sotto nei commenti, lasciate like, commenti, iscrizione, condivisione, campanellina e se volete ditevi anche tutti i vostri pronostici qui sotto nei commenti. E passate da tutti i dettagli che vi metto qua sotto in descrizione. E si inizia. Comunque se la telecamera non è storta, non è lei. Iniziamo con la UEFA Champions League, i pronostici della UEFA Champions League e gli ottavi l'andata. Ci sono comunque belle sfide, eh. PSG Bayer Monaco, goal, sfida da tripla. Da tripla, come dice PSG, Bayer Monaco, ma una cosa è sicura, ci saranno veramente tanti, tanti goal. Si ammazzeranno di goal. E quindi vi dico PSG Bayer Monaco, goal. Milan tolte la mix 2. Allora, sono due squadre che non stanno in un momento proprio roccio. Si, Milan è tornato a vincere, ma il Tottenham sta prendendo un po' schiaffi da tutti, quattro goal dell'essere, quello e quell'altro. Vi chiedo comunque, il Tottenham riuscirà a preparare sul Milan, ma... Ma non di molto, ecco. Milan Tottenham x2. Club Bruce Benfica 2. Viene una sfida dove il Club Benfica, che è una bella squadra, comunque possa vincere il Club Bruce, purtroppo. Si, se la lotterà, beh, perché non è una brutta squadra, però secondo me esce. Secondo me perde l'andata, scusate, non esce, perché poi c'è anche un ritorno del giocare. Il Dortmund di Chelsea, x2. Il Dortmund, vedo che se la gioca, perché comunque anche questa è una bella partita, tra le due squadre molto forti, ma il Chelsea con un episodio, secondo me, la porta a casa. Liverpool e Real 2. 2 senza troppi dubbi. Senza troppi dubbi, ideale è troppo forte. Ha avuto un'altra vita, adesso è il campionato del mondo. E scusate, non è il campionato del mondo. Il Mondiale per Club, il Liverpool, l'ho avuto male, male, male in questa sfida. Il Kret Napoli, spero, spero, con tutto il cuore, 2. 2, dobbiamo assolutamente vincere, nonostante siamo in Germania, dobbiamo vincere. Senza, sì e senza no. Allora, continuiamo. Lipsia City, 2. Il City è troppo superiore, sta lottando la Premier e 6K. In Champions, secondo me, andrà avanti il più possibile. E non si verrà di certo al primo ostacolo Lipsia. No, non credo. Lipsia City, 2. Inter Porto, 1X. 1X. E comunque l'Inter non ha peccato i giorni difficili, si deve passare. Non ha peccato un sorteio difficile, si deve passare. Adesso, tutti, ok, sono d'accordo, ma comunque, occhio, cari interisti, occhio al Porto. Occhio. Questi miei pronostici di senso. Europa League Playoff andata pronostici. Salzburgo-Roma, questo facciamo velocemente. Salzburgo-Roma, 2. Basta United, goal. Ajax, Union Berlino, 1. Shakhtar Donetsk, Ren, 2. Siviglia-PSV, 1X. Lisbono-Mittigan, 1. Juve-Nant, 1. Leverkusen-Monaco, 1X, più goal. Conference League Playoff andata pronostici. Carapag-Gent, 2. Branca-Ferentina, 2. Krabbosbosbord, Basilea, 1X. Bato Grint, Lett, Pozzanan, 1. Scherich, Partizan, 1. Nanaka di Ipro, Ander, 4 e mezza, poi goal. Ludovic, Alexander, Lett, goal. Lunger, 2, 1. Questi miei pronostici degli ottavi di Champions League, dei playoff andata, dell'Europa League e dell'Europa League. Ditemi i vostri commenti e noi ci becchiamo stasera. Ciao. Ciao.